Scusate, ma l'avete pensato in relazione a questo, la pittura o indipendente? Io l'avevo pensato, sì, che potevano essere correlazionati così come con la pittura. Però magari si era pensato, sì, che lui facesse la pittura con parte della nuova. Sì, no, 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 ma io gli avevo proposto l'obbligante, li avevo mandati apposta, come ho detto prima. E quindi, sì, per me la combinazione è un po' bene. Non vorrei che spiegassi l'incanto. Quanto è l'incanto? Quanto è l'incanto? La pittura sono una decina di minuti, però magari l'incanto si può stare anche l'incanto. Si può ripetere due volte. e poi la condizia... Se non è in Italia, questo ha detto... ...con il nostro導ore... ...con il nuovo, in paule, con il controllo. ...la punto che avete provato? Siamo provato a casa... Grazie.